Si fermano i dipendenti Eni e la terza volta in poco più di due mesi, oggi otto ore di sciopero che interessano uffici ed impianti produttivi in Italia. Una delegazione gelese è a Roma, assieme ai segretari provinciali del settore chimico di Firctem, Femca e Wiltec. No alla prospettiva di uno forte ridimensionamento del gruppo Eni in Italia e sì ad una politica industriale del gruppo al fine di rilanciare il ruolo di Saipem nel mercato energetico e infrastrutturale. I sindacati si dicono contrari alla strategia di Eni di consolidare ed estendere la propria attività fuori dall'Italia e ridimensionare il perimetro delle attività domestiche. E oggi si tin anche dinanzi ai tornelli dello stabilimento gelese. Erano in pochi, a dire il vero, solo una ristretta rappresentanza. Il nostro presidio fa parte di una manifestazione che è nazionale, quindi significa anche negli altri siti hanno manifestato. E questo è contro la politica dello Stato, è contro Eni che non vuole investire e a favore del Sud che è sempre dimenticato dalla politica e in questo caso da Eni. Siamo stanchi di stare sempre per strada e quindi diciamo piano piano non siamo rassegnati, lotteremo fino alla fine, però diciamo che siamo stanchi di stare per il nostro lavoro in mezzo alla strada a chiedere i nostri diritti per la salute, per il rispetto del lavoro e per i nostri cittadini perché così Gela è destinata a sparire. Aspettiamo questa risposta da Roma appunto per sapere se Leni cosa decide di fare, se investire a Gela oppure diciamo abbandonare il territorio a se stesso. Dunque voi soltanto adesso in attesa di buone nuove dalla capitale. Sì, siamo in attesa appunto, i nostri colleghi sono andati a manifestare oggi a Roma per avere delle notizie più certe su quello che vuole fare qua a Gela, che intenzione ha di fare a Gela.